Vorresti che la tua opera d'arte fosse più realistica? Basta ripassare le linee con una penna 3D, bello, vero? Sembrano capelli veri! E una volta che cominci a colorare, allora sì che le cose si fanno davvero interessanti! Non preoccuparti, ci disegnerò sopra la bocca! Subito dopo aver colorato il suo fantastico outfit, più colori ci sono meglio è, giusto? Ed è così che si fa, gente, colorare in 3D! Posso prenderla in mano? Una consegna per la signorina Julie! Spero che ti piaccia, tesoro! Chissà cosa sarà! Una di quelle eleganti spazzole per capelli! Non posso credere che si sia ricordato che la volevo! Finalmente è un uomo che mi ascolta! E guarda questo maglione! Niente pelucchi qui! Ti piace, piantina? Ci voleva proprio! Che si dice, Julie? C'era vento fuori! Perché i tuoi capelli sembrano un po' aggrovigliati! Non c'è niente da vedere qui! Solo qualche altra spazzolata qui! Julie? Cosa sono? Un barboncino? Insomma, quanto mi piace spazzolare! Oh! Si è incastrata! Staccati! Oh! La mia bella spazzola! Adesso Leo mi lascerà! Oh, accidenti! Ma so io come aiutarti! Oh, sì! Proverò qualsiasi cosa! Ti mancano alcune setole? Creale tu stessa con una penna 3D! Ma attenzione, ti ci vorrà un po' di tempo! Ora va meglio! Guarda quante setole! Non è perfetta? Non ci posso credere! Grazie! A dopo! Ehi! Ora basta! Come va, piccola? I tuoi capelli! Sì? Oh! Non preoccuparti, ci penso io! La spazzola! Sì? Oh! Si è incastrata! Ehm... Andiamo e basta, ok? Non guardarti allo specchio! Che belle le pulizie di primavera! Quanto è stata l'ultima volta che ho pulito? Oh! Oh! Concentrati! Stai facendo cadere le briciole! Occhio! Ehi! Non riesco a vedere cosa sta succedendo! Julie! Guarda lo schermo! Oh no! Adesso come faranno? Non reggo tutta questa suspense! Vacci piano, amico! Gah! Il giocatore 456 sta perdendo! Tutta questa suspense mi rende così affamata! E' da un po' che stai qui! Quando è stata l'ultima volta che ti sei fatta la doccia? Ti serve questo! Oh! Va un po' meglio! Sai che c'è? E' ora di creare qualcosa! Una forma fatta di stagnola! Pronta! Ma c'è molto altro da fare! Userò la colla nera per tracciare la testa! Una volta fatto, proverò a ricreare la forma con il legno! Quindi userò queste strisce in questo modo! E spillo il tutto insieme! Perfetto! Ora dovrebbe adattarsi alla forma di stagnola! Quindi userò la colla nera per fare la maschera! Questa parte richiede molta pazienza! Un quarto di testa fatto! Non appena finisco di fare queste linee incrociate! Te l'avevo detto che ci sarebbe voluto un po' di pazienza! Ora dall'altra parte! Il tempo sta davvero volando! Adesso vedi! Accidenti! Ora è il momento del bianco! Sta iniziando a sembrare familiare! Se hai visto Squid Game sai esattamente di cosa si tratta! Inquietante, non è vero? Solo un altro episodio! Concentrati! Salve! Tu sei... Non è possibile! Non farmi del male! Non voglio giocare! Cascata! Oh, che fico! Sono solo creativa! Abbastanza realistica, eh? È la mia piccola creazione! Julie! Guarda! Anche quella l'hai fatta tu! Non so chi sia! Allora chi è? Corri come il vento! Buongiorno, Julie! Non è spettacolare la mia nuova tazza? Ah! È così carina! Posso vederla? Assolutamente no, mani di ricotta! Va bene, allora! Devo trovare un posto dove mettere questa cosa! Quegli scaffali sono piuttosto alti! Julie non potrà mai arrivare fin quassù! Nemmeno con i tacchi! Addio! Non sta guardando, vero? È ora di prendere la tazza! Sono così vicina! Manca un millimetro! Ah! Oh no! Non ci posso credere! Mi ucciderà! Devo nascondere le prove! Nessuno guarderà qui sotto! La mia penna 3D! Forse posso rimediare! Inizierò creando una forma con la stagnola! Una volta che hai coperto tutto quanto, lascialo asciugare e poi togli la stagnola! Ora serve un po' di vera creatività! Iniziamo con un grande cuore rosso! Ricordati di riempire tutto! Fai delle linee che vanno su e giù, più e più volte! E abbiamo finito! Devo fare molto piano! Ecco! Vediamo! Oh! Questa tazza è così carina! Niente è meglio dell'altalena! Vengo a prenderti, Claire! Uh-huh! Guarda come corro veloce! Niente può fermarmi adesso! Grazie per l'attenzione! Uh-huh! Il mio telefono! Qualcuno lo deve prendere al volo! Ci sono! Ci sono! Ecco! Ci è mancato poco! No! Speriamo non ci siano graffi! Mai sentito parlare di custodie per telefono? Ma è così noiosa! Se lo dici tu! Fidati! Se vuoi una custodia per telefono super carina, usa una penna 3D per creare un bel design! Riesci a indovinare cosa sto facendo? Ti darò un indizio! Contiene tanti colori! E meno male che li ho tutti! Ora serve il verde! Tante linee sono fondamentali! E dopo il verde penso che aggiungerò del blu! Dai un'occhiata a tutte queste linee meravigliose! E ora abbiamo quasi finito! Ma devo aggiungere il sole! Questa custodia mette il buon umore! E appena si asciuga, mettila nel suo telefono! Dai un'occhiata alla mia nuova custodia per telefono! Non è più noiosa, vero? Sono così orgogliosa! Ora posso tornare alle cose serie? Non hai imparato niente, Claire! Cosa faresti con una penna 3D? Le possibilità sono infinite! Ricordati di condividere questo video con i tuoi amici creativi! Iscriviti al nostro canale per non perdere il divertimento! Cosa faresti con i tuoi amici creativi!